Consiglio Comunale a Clusone, sotto la lente i costi delle società partecipate, approvato con voto favorevole dalla sola maggioranza il documento unico di programmazione, un'aminità sul piano di diritto allo studio. Gandino lavora in corso al campo da calcio, intervento sostenuto dalla società SD Gandinese 2015 lo scorso anno, promossa in seconda categoria. Musica, il Beppi e il lavoro con nuovi progetti, presto la presentazione di un nuovo libro e di un nuovo CD. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Ha purtroppo fatto registrare una vittima l'incidente accaduto sabato sera nella zona del semaforo, fra Colzate e Casnigo. Una delle due donne rimaste ferite nello scontro ha perso la vita. L'incidente si era verificato poco prima delle 19 lungo la provinciale della Valle Seriana. Ben 7 le persone coinvolte nello scontro, tra loro anche due donne di 87 e 33 anni, trasportate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'anziana, Serafina Faustini, residente a Casnigo, non ce l'ha fatta e ha perso la vita in ospedale. Il funerale è stato celebrato oggi nella parrocchiale di Casnigo. La donna, vedova, abitava in via Serio, a poca distanza dal luogo dell'incidente. Dopo i nove arresti avvenuti per droga martedì a Osio Sotto, questa mattina le manette sono scattate a Calusco e sono frutto anche dell'impegno dei militari di Clusone e Breno. In un garage sono stati scoperti 50 kg di marioana. Sentiamo il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Clusone, il Maggiore Diego Lasagna. La Compagnia Carabinieri di Clusone insieme alla Compagnia Carabinieri di Breno hanno operato nel fine settimana su importanti soggetti che si sono resi responsabili dell'attenzione a fine dispaccio di sostanze stupefacenti. Gli sviluppi investigativi che sono conseguiti a questa attività hanno permesso sempre alle due compagnie ieri, in Calusco d'Adda, di arrestare un soggetto albanese a H del 1984 con 50 kg di marioana confezionata all'interno del proprio garage. Il soggetto si occupava, da quello che abbiamo potuto accertare in questi giorni, di spacciare e rivendere questo materiale sul territorio della Bergamasca e del Bresciano. Un danneggiamento è stato effettuato all'interno del cimitero di Rovetta. È stata presa di mira la croce dei 43 militi della prima divisione d'assalto M della Legione Tagliamento, uccise nella notte tra il 27 e il 28 aprile del 1945. I gnotti hanno danneggiato il volto di Benito Mussolini e le bandiere della Legione e della RSI. L'episodio è stato notato già la scorsa settimana. Già in passato la croce era stata danneggiata e poi ripristinata. In alcuni casi le piastre erano anche state rimosse. Ed è stato approvato con il solo voto favorevole della maggioranza il documento unico di programmazione dell'amministrazione comunale Baradella. Negli interventi delle minoranze, preoccupazioni sui costi delle partecipate, sulla situazione del centro storico, sull'intervento della struttura polivalente e la futura gestione dell'area e sull'andamento demografico della cittadina. Ha approvato l'unomenità il piano di diritto allo studio. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto ieri sera al termine del Consiglio Comunale. Sì esatto, è un documento essenziale per l'amministrazione perché mette appunto dalle linee guida per l'attuazione del proprio programma. Quindi per noi minoranza è stato un momento per mettere all'attenzione della maggioranza e del sindaco alcune criticità che ravvisiamo a Clusone. In primis ci viene in mente la situazione del centro storico che sta assistendo a continue chiusure e quindi a uno svuotamento che ci preoccupa a favore di quelle che sono le aperture nelle nuove attività in Viale Gusmini che quindi porta la gente a uscire dal centro storico. Quindi abbiamo messo in attenzione questa problematica legata anche al turismo perché Clusone è una rinomata cittadina turistica ma abbiamo chiesto al signor quali sono le misure che stanno portando avanti perché questa vocazione turistica sia poi approfondita e sia portata ad avere persone veramente che arrivano a invadere come sta scritto nel documento Clusone. Un altro appunto che abbiamo messo in risalto in questo documento importantissimo è quello della nuova struttura sportiva perché abbiamo messo in risalto ancora una volta le criticità che ravvisiamo. Una palestra troppo piccola che non soddisfa sicuramente quelle che sono le esigenze dei clusonesi che da 30 anni si aspettano una struttura, un palazzetto polifunzionale. Non è questa la struttura che si sta realizzando. Così come non comprendiamo come un campo di calcio ad 11 giocatori con tanto di fari che veniva usato per tutte le squadre, per tutti gli allenamenti di tutto l'anno sia stato praticamente rimosso, quindi rottamato per lasciare poi il posto a un campo a sette giocatori quindi si è passati da una situazione di serie A a una situazione di serie B a nostro avviso. E poi anche criticità legate alla gestione. Ad oggi non sappiamo ancora quanto costerà e chi gestirà quell'opera, quindi siamo preoccupati in questo senso. Un ultimo appunto l'abbiamo portato per quanto riguardano alcune problematiche di livello sovracomunale. Sicuramente la strada che porta in Val Seriana, che abbiamo messo in evidenza che da anni, forse anche più di 40 anni, che i nostri politici non sono stati in grado di realizzare una strada che sia confacente al nostro territorio, così come la chiusura del punto nascita, così come la situazione dell'Istituto Fantoni. Sono tutti punti che ci siamo sentiti in dovere di mettere l'attenzione del sindaco. Sì, nel bilancio consolidato dell'ente entrano anche le società partecipate. E a tal proposito è stata l'ulteriore occasione per riflettere su almeno due questioni. La prima è legata alla società Secco, che è al 32,60% partecipata dal Comune di Clusone. è una società che oggi è diventata una oldie, ma di fatto gestisce pochissimi servizi e ha dei costi spropositati. Altra preoccupazione che ho espresso è la possibile fusione tra la società del gas, Unigas, con Ascopiave, che è il socio privato. E qui l'operazione verrebbe fatta dalla società Anitta. Lo stesso Revisore dei Conti mette in evidenza i rischi societari di questa fusione, che potrebbero anche portare non dei benefici economici all'amministrazione comunale, ma invece degli scompensi. Sono tutte questioni che in questo momento sono sul tavolo della maggioranza, ma che tartano a trovare una soluzione. L'occasione poi è stata quella di ricordare ancora una volta quel teleriscaldamento che Anitta aveva realizzato, quel impianto realizzato per il Comune di Alzano, e che è andato sui costi che gravano sulle diverse amministrazioni comunali, tant'è che anche il Comune di Clusone ogni anno perde 6.000 euro per il teleriscaldamento di questo Comune, credo che sia ora e tempo che questo venga dismesso e che vengano chiesti all'amministrazione comunale di Alzano di rifondere queste oggettive perdite che sono in capo ai cittadini di Clusone. Tante sono state poi le tematiche in questo Consiglio, compreso il diritto allo studio, che invece ha visto la nostra approvazione, fermo restando delle riflessioni su come rivitalizzare invece e ridare dignità il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è un'esperienza di civica che non può assolutamente morire. Ma sentiamo anche la replica del primo cittadino, Paolo Lini. Abbiamo già fatto in aula, le risposte le diamo perché veramente si lavora con quotidianità, con impegno e sempre con tanta passione per raggiungere i tanti obiettivi. Tra questi temi non è stato citato il piano di diritto allo studio che è invece qualcosa di importante, un qualcosa che viene seguito al meglio dall'assessore Ruzzana, un importo anche quest'anno di 440.000 euro, quindi per garantire un qualcosa di importante, soprattutto per il futuro dei ragazzi. Per il futuro abbiamo la realizzazione della nuova struttura, quindi dopo tanti anni a partita la nuova struttura stiamo lavorando per completare con un progetto anche l'area esterna. Sono scelte, l'amministrazione è chiamata a farla. Le scelte si fanno, noi abbiamo condiviso come gruppo di maggioranza quello che dovrà diventare veramente un qualcosa di importante per la città di Crusone. Il fatto poi di aver sacrificato o distrutto, come dice qualcuno, un campo in sabbia è stato dopo attente varie valutazioni ma mi auguro veramente di poter porre all'attenzione di tutti i cittadini di Crusone nell'estate dell'anno prossimo il completamento di quello che diventerà un'area veramente importante dove non si deve fare solo gioco del calcio ma si deve svolgere anche altre attività sportive. Quindi sono scelte, l'ho detto prima, sono scelte che però sono condivise da una maggioranza, una maggioranza unita e compatta che con impegno continua a essere presente sui tanti temi. Per quanto riguarda le società partecipate, qui invece si pone la lente sui costi. Le società partecipate sono sempre una componente del bilancio consolidato sui costi, sui compensi, su quanto fanno, su come lo svolgono. Io partecipo come delegato alle partecipate in quello che riguarda la Setco, in quello che riguarda Anita che ci ha visto veramente impegnati quest'estate per risolvere quello che era il tema del teleriscaldamento di Alzano con la prospettiva di una futura fusione anche per portare le gare d'ambito. Però sono temi, anche lì sono scelte, ci si trova con tanti sindaci, ci si confronta, si discute e poi alla fine si deve arrivare a una decisione perché in alcuni casi, come abbiamo detto questa sera, a fronte di fermare un'emorragia però si deve intervenire perché poi altrimenti le situazioni vanno sempre più a complicarsi. Però, l'ho detto, i temi sono tanti, il Consiglio Comunale ha fatto per affrontare questi temi, l'ho ribadito questa sera. La maggioranza è qui oramai da tre anni, io sono qui invece oramai da otto anni. Stiamo cercando di fare il meglio, se si commette qualche errore lo si deve perché comunque si lavora quotidianamente ma l'impegno c'è e la voglia di dare risalto alla città di Crusone in tanti aspetti e in tanti obblighi deve esserci sempre. E con il prossimo servizio di Nicola Androletti andiamo a Gandino e ci occupiamo dei lavori in corso presso il campo da calcio. Lavori in corso al campo di calcio A11 di Gandino, un intervento, questo promosso dalla SD Gandinese 2015. Perché questa decisione di intervenire sul campo e che cosa state facendo? La nostra società è stata costituita tre anni fa, questo è il quarto campionato che facciamo. Siamo stati promossi l'anno scorso in seconda categoria e abbiamo fatto il campionato l'anno scorso di seconda categoria. Siamo arrivati più o meno sesti o settimi a metà classifica. e visto che la convenzione con l'Albino Gandino scadeva all'inizio di quest'anno con il comune di Gandino noi ci siamo proposti per sostituirci a loro e per prendere in mano la gestione di questo campo. Diciamo che la voglia di fare questo intervento è stata dettata dal fatto che prima cosa bisognava comunque mettere mano molto importante, avere una spesa molto importante anche solo per la manutenzione del campo in erba naturale e quindi ci siamo messi a tavolino, ci siamo guardati un po' negli occhi e abbiamo detto se potevamo fare questo intervento e se riuscivamo a fare questo intervento e come sostenere questo intervento. Alla fine abbiamo trovato i mezzi buoni anche grazie al decreto ministeriale che era uscito a fine 2017 per la nuova legge di stabilità che dava un credito di imposta alle aziende che ci davano una mano come erogazione liberale, come beneficenza e quindi ci siamo un po' attaccati a queste cose, ci siamo andati da fare e siamo riusciti a cominciare i lavori per questa nuova riqualificazione del campo facendolo in erba artificiale. Quali saranno gli interventi? Campo in erba artificiale ci sono poi altri lavori che porterete avanti? Campo in erba artificiale è la prima cosa e secondariamente ristrutturiamo le tribune sostituendo i seggiolini mettendoli nuovi abbiamo rivisto gli spogliatoi ritinteggiato, sistemato la sala come si dice la sede e faremo sopra gli spogliatoi anche un piccolo pezzettino di campetto per permettere agli atleti prima di entrare in campo o se ci fossero due partite di cominciare a fare un po' di riscaldamento. Ci sarà poi anche un intervento sull'impianto di illuminazione? Abbiamo ovviamente intrapreso questa strada basata soprattutto sull'illuminazione perché se non ci fosse l'illuminazione non avrebbe avuto senso fare un campo in erba sintetica ma avremmo solo rifatto l'erba naturale se l'avessimo dovuto usare solamente la domenica per la partita. Quanto spendete? La spesa per noi è molto importante sarà sui 500 mila euro circa una buona parte verrà coperta da questi costi perché fortunatamente abbiamo avuto aziende che ci hanno donato questi soldi in base a questa legge quindi avendo il credito d'imposta del 50% e la restante parte la copriremo con un finanziamento tramite il credito sportivo che non abbiamo ancora concluso siamo ancora in fase di pratica, di struttoria. Quando finiranno i lavori? Io credo più o meno verso metà, fine novembre dipende un po' tutto dal tempo fino ad oggi siamo stati fortunatissimi perché è stato clemente però se comincia a piovere ovviamente capirete anche voi che diventa un po' tutto più complicato però speriamo in bene, dai. Ricordiamoci, è la prima squadra come abbiamo detto in seconda categoria avete anche una squadra di ragazzi. Sì, abbiamo anche per quest'anno il secondo anno una squadra di ragazzi l'anno scorso hanno fatto gli esordienti quest'anno fanno i giovanissimi Under-14 e l'anno prossimo vorremmo incrementare un'ulteriore squadra facendo ripartire ancora gli esordienti. Ci fermiamo per una breve pausa tra poco. Grazie a tutti. Riaccoci in onda con il telegiornale di Antena 2 domani, giovedì 18 ottobre tornerà a riunirsi l'assemblea della comunità montana della Valle Seriana tra i punti dell'ordine del giorno la destinazione dei fondi BIM e l'accordo di programma per la nuova caserma dei carabinieri di Clusone verranno inoltre comunicate anche alcune novità che riguardano la giunta a fine settembre infatti il vicepresidente e assessore ai lavori pubblici Davide Cattaneo ha rassegnato le dimissioni La decisione è stata presa per motivi di lavoro spiega lo stesso Cattaneo consigliere comunale a Gazzaniga Per sostituirlo il presidente della comunità montana Danilo Cominelli ha dato vita a un mini rimpasto di giunta Anzitutto Fabio Migliorati consigliere comunale a Castione è stato chiamato a far parte dell'organo esecutivo come assessore all'agricoltura e pianificazione forestale La nuova nomina ha portato a modificare alcune deleghe Raffaello Bertuletti consigliere comunale di Gandellino non si occuperà più di ambiente, ecologia, sport e tempo libero ma di lavori pubblici e protezioni civile sostituendo così di fatto Cattaneo Silvia Bosio sindaca di Peia non avrà più le deleghe ad agricoltura e pianificazione territoriale ma la salvaguardia del territorio ambiente, ecologia sport e tempo libero le altre deleghe rimarranno invariate Cominelli inoltre ha nominato vicepresidente l'assessore alle politiche sociali e della famiglia Mariuccia Vismara consigliere comunale a Prada Lunga e ora ci occupiamo del Lions Club Città di Clusone e Valle Seriana Superiore e dei suoi principali progetti Nemet Trussardi ha da poco iniziato il suo secondo anno da presidente e questo anno sarà sicuramente l'insegna della continuità Sì diciamo che l'anno scorso abbiamo iniziato a realizzare alcuni progetti che quest'anno continueremo a portare avanti e mi piace citare il progetto accrescere il valore dei giovani in collaborazione con l'Università di Bergamo e ringrazio il rettore Remo Morzenti Pellegrini per la piena disponibilità e soprattutto le cinque aziende che ci hanno sostenuto economicamente che sono Scame, Comelit, Lamiflex, Sinergia, Officine Meccaniche perché grazie al loro contributo abbiamo devoluto 30 mila euro affinché 21 ragazzi del nostro territorio potessero andare all'estero a studiare e poi rientrando possano venire a fare esperienza nelle nostre aziende e quindi magari immaginare di continuare a risiedere su questo territorio perché il lavoro gli dà la continuità e la prospettiva poi devo dire ci sono tantissimi altri progetti ora non avete ancora visto realizzato il monumento di benvenuto alla rotonda sulla nuova superstrada lì alle fiorine che avevamo enunciato perché per ragioni burocratiche comune e provincia insomma stanno giusto in queste settimane dandoci il permesso per realizzarlo se tutto va bene lo vedrete a breve è un l'orologio Fanzago in acciaio Corten laserato con un basamento con la scritta benvenuti a Clusoni sarà a 3 metri di diametro quindi sarà una cosa molto importante anche lì 12 mila euro di budget abbiamo messo a disposizione perché ci piace pensare che chi passa da questa strada possa avere il benvenuto e trovare un simbolo che dia prestigio e valore ai nostri territori poi tante altre cose ora Andrea non vorrei dilungarmi troppo ma insomma davvero tanti progetti e questa sera ci occuperemo delle attività del Lions Club e Città di Clusone Vale Seriana superiore a Decoder trasmissione in onda alle ore 20 e 30 le repliche domani alle 14 e venerdì alle 23 e 30 non sarà l'unico argomento daremo spazio anche a un'intervista al presidente della provincia Matteo Rossi che coglie l'occasione per delineare il bilancio del suo mandato e ora continuiamo occupandoci di musica un libro un cd sono i progetti a cui è al lavoro il Beppi ecco Beppi sei al lavoro con diversi progetti sì come al solito non mi accontento di una cosa ma ne almeno due o tre il progetto principale riguarda il nuovo disco che verrà presentato il 16 di novembre al teatro Gavalzeni di Seriate disco che si chiama T11 T lettera T come Torino 11 che quindi tu Filisetti mi insegni se noi dovessimo tradurlo in bergamasco sarebbe è problema questo sarebbe dai bravo T11 sposti l'accento ma quindi T11 T11 prendi le 10 sono già sicuro che Tange indirà a massa perché dirà potta ma lei è l'11 però c'è dentro il 10 potta sì è bello c'è il giochino del 10 nell'11 vai T11 sono 13 canzoni 12 canzoni sono per metà in dialetto per metà in italiano disco molto particolare e particolare è un eufemismo per dire che lei fa de biglia non che ci sia mai stato un disco del Bepi particolarmente dritto ma che sto le particolarmente fa de biglia l'abbiamo realizzato con non poca fatica io e il tastierista Alberto Sonzoni di Curnasco leonankengatrafegadrei praticamente tecissire e quindi insomma siamo anche un po' stanchi va detto bisogna tenere duro ancora un po' perché adesso arriva il momento di presentarli arriva il momento di far conoscere questi lavori al pubblico e a proposito di far conoscere questi lavori al pubblico cosa ho fatto io dai Filisetti ho fatto anche un un bel libro bravo troppo preparato l'Andrea un bel libro che si chiama Seconde Appendice di Proud che è un libro che verte chiaramente principalmente sul cd però parla anche di altre cose perché racconta di tutto quello che è successo dalla seconda metà del 2017 fino ad arrivare ad adesso libro che presenteremo qua in giro saremo infatti sabato prossimo 27 ottobre all'auditorium di Gazzaniga via Mazzini 9 ma è facile da trovare le a 50 metri dall'Anselmo Barbera l'epicentro di Gazzaniga l'Anselmo Barbera lì all'auditorium è un bel posto e vedremo insomma di parlare di questo libro che parla delle canzoni qual è la cosa veramente strana che viene fuori il libro prima del cd quindi praticamente uno ha l'opportunità di leggere di cosa parlano le canzoni come sono state fatte prima di ascoltarle ed è una cosa che credo abbiamo fatto veramente in pochi io credo che possa essere un modo un po' così desueto che bello sto termine desueto per incuriosire per creare un po' di movimento attorno a questo nuovo lavoro discografico e poi ci saranno anche i concerti l'orizzonte beh chiaramente subito dopo quello di seriate del 16 di novembre vedremo di di mettere giù qualche data promozionale che ruoti chiaramente attorno a questo disco c'è qualcosa in ballo intanto non dico niente perché chiaramente mi interessa che la sera è a seriate o il 16 di novembre se dopo la sa che me 4d dopo fu il concerti dell'altra banda è chiaro che i vecchi lotter che magari le gratis no 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 teatro gravazioni di seriate 16 novembre presentazione cd auditorium di gazaniga 27 ottobre presentazione libro secondo appendice di proud e ora continuiamo con la rubrica racconti di ieri e questa sera ci occupiamo della parola dell'altare della chiesa parrocchiale di castione dovrebbe essere la rappresentazione del martirio di sant'alessandro a cui la chiesa è dedicata ma ci sono comunque stati anche nel passato dubbi su questa rappresentazione effettiva del martirio di sant'alessandro nel quadro c'è un martire già caduto sul pavimento e c'è il santo invece inginocchiato che sta per essere decapitato comunque io mi attengo alle versioni ufficiali si tratta del martirio di sant'alessandro opera del pittore Pietro Vecchia o della Vecchia nato a Venezia nel 1603 morto nel 1671 era all'epoca il pittore ufficiale della Repubblica quindi un pittore importante la Repubblica l'aveva impiegato soprattutto per i restauri dei grandi mosaici della basica di San Marco e anche per la facitura dei cartoni per i nuovi mosaici qui il pittore Pietro Vecchia evidenzia le influenze avute dalla pittura caravaggesca con forti chiaroscuri che poi caratterizzano anche altre opere di questo pittore veneziano il nostro pittore ha altre opere in Bergamasca anche se è un pittore che non ha una grande produzione qui da noi cito in Bergamasca le opere di Algua fazioni di Pagliaro cito quelle di Castione la più importante ma anche quella di Cedete Alta di Darmine e di Pianico l'opera è stata ha avuto restauri e trasformazioni originariamente doveva essere firmata sull'angolo sinistro proprio da Pietro Vecchia Venetus quindi l'attribuzione è sicuramente quella a questo pittore rimane il dubbio sulla effettiva rappresentazione del martirio di Sant'Alessandro ci fermiamo per una breve pausa tra poco eccoci in onda con il telegiornale di Antena 2 ora continuiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle 20.10 trasmetteremo l'Alpino alle 20.30 Decoder alle 21.30 la rubrica di sport S4 Sport Outdoor alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.15 la rubrica Hard Track alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale tornerà in onda anche sul canale al numero 21.18 alle ore 21.30 sul canale sportivo al numero 628 trasmetteremo una partita di calcio alle ore 20.30 nella fattispecie Casazza-Vertovese alle 22.30 la partita di calcio Albino Gandino Brusa Porto ecco l'Almanacco per domani giovedì 18 ottobre il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 18.35 il culmine è alle ore 13.05 la durata del giorno è di 10.59 la luna sorge alle 19.59 tramonta l'1.51 di venerdì la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 61% la chiesa ricorda San Luca Evangelista ecco anche le previsioni del tempo è prevista una nuvolosità per di più rappresentata da velature alte le temperature saranno in aumento e con questo è tutto noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata e vi auguriamo